Abbiamo Nunzia Schiano, le chiedo che impressioni hai avuto dell'arte Lesia? Forse è la prima volta che vengo? Sì, è la prima volta che vengo e devo dire che l'esperienza è stata molto positiva, sembra di stare veramente su un vulcano, conoscendo poi Francesco ti rendi conto che effettivamente l'organizzazione è vulcanica, è divertente, è fatta soprattutto con passione e con amore e si vede subito, respiri proprio un'aria diversa quando c'è qualcuno che fa le cose appassionatamente. Quindi il cuore si sintonizza immediatamente in questo caso, ho visto una platea di ragazzi attenti quindi l'augurio è che continui sempre così. Il futuro, lei ha qualche progetto, qualche anticipazione che ci può dare? Continuo con l'impegno teatrale di Benvenuti in Casa Esposito, tratto dal libro di Pino Imperatore che sta andando, devo dire, molto bene, siamo riduci da un successo notevole a Roma che ci preoccupava, perché noi siamo sempre preoccupati del giudizio della capitale, quindi non possiamo che essere contenti. E poi con il mio spettacolo che si chiama Femmine, un altro spettacolo sulla tradizione più napoletana che è stato emovibile, quindi soprattutto teatro, il cinema un po' meno, però io non mi scompongo più di tanto. L'arte viene dal teatro, l'arte viene dal teatro. Il teatro ha un altro stimolo, un altro respiro e poi il resto viene di conseguenza. Poi ho scelto di continuare a vivere in Campania, io sono di Portici, continuo a vivere a Portici, non ho sentito il richiamo della sirena di Roma, andiamo tutti a Roma. Sto bene a casa mia, quindi quello che arriva mi trova felice ad accoglierlo. Se arriva, se non arriva sono contenta lo stesso, perché poi ho una vita personale abbastanza appagante e appagata, quindi va bene così, insomma sono contenta, viva Dio, adesso faccio un lavoro che mi piace. Non mi devo alzare alle 5 di mattina per andare a Miniera, facciamo una faticaccia, se fossero tutte queste le fatiche. Anche perché il teatro è un lavoro molto impegnativo, diciamo perché tutto in presa diretta, non è come il cinema che vai là e poi fare le riprese, poi i tagli e tutti, quindi si deve essere bravissimi. Lei è una grande artista. Io amo particolarmente il teatro, ancora lo faccio in forma artigianale. Pensa, ieri mattina era a Treviso a fare uno spettacolo, la compagnia aerea mi ha avvertito all'ultimo momento che il volo era cancellato, quindi mi sono fatta un attimo in furgone da Treviso a Napoli. Non è stata certamente una passeggiata, però pur di fare lo spettacolo tu dici, vabbè non fa niente, faccio compagnia ai ragazzi in furgone e ci siamo fatti questa spedizione tipo carro di Tespi antelitteram. Noi ne è fatto molto piacere fare questa intervista, spero che le prossime edizioni ci torni a trovare. Grazie, grazie. Grazie a tutti, ciao ciao.